E' sempre il tema della sanità locale e il sito per la realizzazione del nuovo ospedale unico provinciale a tenere alta la tensione a livello politico. Il sindaco di Fano Massimo Seri non arretra di un centimetro su Chiaruccia come ubicazione ideale della nuova struttura, forte anche del consenso dei sindaci della vallata che, come lui stesso afferma, essere dalla sua parte. Ricci afferma di voler l'ospedale unico al massimo fra tre anni, dice Seri. Bene, allora anche su questo aspetto Chiaruccia è vincente su Fosso Seiore, perché qui è già tutto pronto. Il terreno è di proprietà comunale, non bisogna fare espropi, non ci sono vincoli ambientali e non ha bisogno di nuove strutture. A suffragio delle sue convinzioni, questa mattina nel consueto appuntamento con la stampa ha presentato un elaborato che tiene conto delle valutazioni e delle specifiche richieste in materia dalla Commissione Provinciale. Io ho voluto per rafforzare questi elementi far fare un'indagine, una verifica, uno studio dai nostri uffici. Ovviamente sono dei disegni, sono delle proposte, non sono un vero e proprio progetto. I progetti costano tanti soldi e quindi per farli ci vuole una motivazione. Il fatto che ne sia comparso uno, insomma, qualche elemento di dubbio gliel'ha fatto venire? Sì, ecco, su questo io voglio mettere i puntini sulle i. Per fare un progetto ci vogliono dal 150.000 ai 200.000 euro, allora la gente non è che butta via i soldi. Quindi io riaffermo questo principio, la competenza è regionale, la competenza è pubblica, non è che sono i privati che ci dicono dove dobbiamo fare l'ospedale. La regione faccia la sua scelta in modo trasparente e condiviso, quindi coinvolga anche i territori. Nel momento che si fa si dice inviateci i progetti. Allora a quel punto siamo sereni, se no qualche sospetto mi arriva. Mettendo da parte la mala fede però rimane il fatto che un elaborato esiste e allora se quel progetto è valido non accantoniamolo del tutto. Quel progetto può essere realizzato anche in altri siti, quindi già da lì si può fare, se siamo in buona fede, si può fare un ragionamento valutando quel progetto presentato per Fosso Giore. Quanto costerebbe se si fa a Chiaruccia? Si risparmerebbe, secondo me, altri 20-30, forse anche di più, milioni. Magari io preferirei spendere più soldi per la qualità anche dell'intervento. Che l'ospedale unico rappresenti un'opportunità per il territorio il sindaco di Fano non ha alcun dubbio, dato che se non si fanno delle scelte poi arrivano i commissari. Esiste il DL70 infatti che obbliga le regioni a fare scelte precise in ambito di riordino sanitario. Si è parlato troppo, quindi è ora giunto il momento di avere tutti gli elementi per una discussione vera e non si può passare sopra la testa dei territori. Condivido che il ragionamento deve essere fatto in area vasta, perché qui parliamo di un'organizzazione provinciale e non soltanto dei comuni. Io onestamente vorrei fare anche degli incontri pubblici perché bisogna che le cose ce le diciamo e anche un sindaco è più forte se ha una condivisione della gente.